Buonasera, buonasera a tutti. Intanto presento il professor Roberto Bernabèi, che è qui accanto a me, ordinario di Geratria dell'Università Cattolica di Roma e presidente dell'Associazione Italia Longeva, che ci farà poi un focus sulle persone più adulte e la loro reazione al coronavirus. Diamo lettura del bollettino odierno e partiamo, come al solito, dai guariti. Questa sera registriamo 689 persone guarite, che porta il numero del totale delle persone guarite a 5.129 unità. E' di 4.670 l'incremento delle persone attualmente positive. Il totale delle persone attualmente positive è di 37.860. Di queste 19.185 sono le persone in isolamento, senza sintomi o con sintomi lievi. E' di 2.655 le persone che sono in terapia intensiva, pari al 7% del totale delle persone positive. Purtroppo oggi registriamo 627 nuovi deceduti e voglio ricordare che questi sono deceduti con il coronavirus, non per il coronavirus perché, come sapete, l'Istituto Superiore della Sanità sta portando avanti un'indagine epidemiologica e quindi sarà l'Istituto Superiore della Sanità a comunicarci questi dati. Per quanto riguarda le forze in campo, oggi registriamo l'incremento di 1.000 unità in più riferite ai nostri volontari e alle nostre volontarie impiegate nella lotta a questa epidemia. Voglio veramente ringraziare tutti i volontari e le volontarie. Siamo arrivate a 7.000 persone che sono dall'inizio dell'emergenza impiegate in questa battaglia. Accanto al personale sanitario che ringrazio insieme con il personale delle Forze dell'Ordine, delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e tutti quanti gli altri che sono impegnati a vario titolo nel fronteggiare l'emergenza. Il dato delle tende che sono messe a protezione delle nostre strutture ospedaliere è incrementato di 14 rispetto a ieri. Quindi abbiamo in totale 669 tende di pretriage all'esterno delle nostre strutture e sempre 122 sono le tende di pretriage negli istituti penitenziari. Il numero dei pazienti trasferiti rispetto a ieri con il sistema della CROSS è di un paziente. Siamo arrivati a 60 trasferiti. Il totale dei trasferiti con coronavirus è di 23. Il totale dei trasferiti senza coronavirus è di 37. Poi volevo dare alcune informazioni. La prima, ho firmato un'ordinanza di protezione civile che consente il pagamento anticipato delle pensioni nei nostri uffici postali e anche nelle banche. Il pagamento delle pensioni non avviene più in un unico giorno soltanto ma saranno disposte dal 26 di marzo al 31 di marzo e così accadrà anche per aprile e per i mesi a venire. Volevo anche darvi informazione che stiamo lavorando con il Ministro Boccia, con i Presidenti di Regione, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per chiudere l'ordinanza per costituire la task force dei 300 medici che metteremo a supporto delle realtà regionali e delle sanità regionali che ne hanno bisogno e credo che da qui a breve ci ripresenteremo qui con il Ministro Boccia per annunciare la firma di questo provvedimento. Quindi credo che entro stasera e nel più breve tempo possibile daremo corso alla organizzazione di questa task force. Voglio anche ribadire quello che abbiamo detto già negli altri giorni. Il Dipartimento della Protezione Civile e il Commissario non requisiscono materiali che sono destinati alle regioni, alle strutture ospedaliere, sarebbe una lotta tra alleati e quindi questo non è assolutamente vero quindi non corrisponde al vero di quelle notizie che si sono diffuse anche a livello di informazione sul web. Voglio smentire seccamente questa notizia che gira che il Dipartimento si starebbe preparando poi non so perché il Dipartimento per dichiarare condizioni di biocontenimento su tutto il Paese a partire da metà aprile. Sono delle fake news che devono essere punite e io mi auguro che possano essere individuati coloro i quali mettono in rete queste notizie che sono destituite di ogni fondamento e sono anche molto allarmistiche. Mi fermerei qui, darei la parola al Professor Bernabèi per il suo focus e poi diamo spazio alle domande. Io credo che posso solo rifarmi a quello che è l'indagine che ha citato il Dottor Borrelli dell'Istituto Superiore di Sanità. Credo che sia una cosa assolutamente decisiva perché sono state analizzate le cartelle dei primi 355 deceduti dove si mostrano delle cose che hanno un significato precisissimo. Tenete presente di questi 355, 3, cioè lo 0,8% avevano 0 patologie concomitanti. Tutto il resto aveva 1, 2, 3 patologie. 25, 25, 48% 3 patologie. 25, 2, 25, 1. A dire come il dato per certi versi importante per altri che fotografa bene la realtà è che il fattore di rischio vero è quello di averci non solo un'età diciamo geriatrica ma anche averci delle patologie concomitanti. Questo è il fatto fondamentale e in particolare patologie come l'ipertensione, la cardiopatia ischemica, la fibrillazione atriale, il diabete, sono quelle che portano ad una maggiore aggressività del virus semplicemente perché trova un terreno più fertile, un terreno più fragile, un terreno dove riesce a lavorare di più. E questo credo che sia la fotografia che spiega anche l'eccesso di mortalità perché è stato credo tante volte ricordato ma noi siamo il paese più vecchio del mondo insieme al Giappone. L'età media degli infettati è di 63 anni contro i 46 dei cinesi. Capite bene che a 46 anni si reagisce molto meglio rispetto a 63. Quindi il dato generale è che abbiamo meno del 10% di mortalità sotto i 60, tutto il resto è dai 60 in su. Questo come cappello introduttivo. Grazie professore. Adesso le domande. Se non ho fatto male i conti, in cinque regioni italiane, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Marche risulta esserci il 77% dei malati, mentre invece la percentuale delle vittime in queste stesse regioni è circa del 90%. Volevo capire se si può dare una spiegazione scientifica, una correlazione a questa differenza che c'è. E l'altra cosa che volevo chiedere, il professor Lopalco dell'Università di Pisa stamattina parlava di un'epidemia molto lunga e della possibilità di un fine delle misure restrittive addirittura verso l'estate. Volevo capire se è un'ipotesi plausibile. Grazie. A questo della seconda parte è tutto possibile. Ancora non lo sappiamo. Fin quando non avremo esattamente la valutazione del picco della viralità della pandemia non possiamo, credo, fare questi calcoli ulteriori. Per il resto non lo so perché questi calcoli che ha fatti lei io non li ho visti. Non lo so quanto corrispondano al vero. Se vuole li facciamo insieme e poi dopo privatamente diciamo. Buonasera, Giorgia Sador a DN Cronos. Oggi il presidente nazionale del SIS 118 ha lanciato un appello, una proposta, chiedendo di fornire di saturimetro tutte le persone in isolamento domiciliare obbligatorio per rilevare l'insufficienza respiratoria acuta in fase molto precoce e salvare tante vite. Volevo capire se questa è un'ipotesi valida, nel senso una proposta valida per non intervenire troppo in ritardo quando ci sono già delle condizioni molto aggravate, soprattutto anche per le persone anziane. Certamente sì. Tutto quello che è quella che un tempo si chiamava telemedicina, oggi si preferisce chiamarla tecnoassistenza, tutto quello e da questo punto di vista il saturimetro è uno dei device, uno degli strumenti di monitoraggio funziona. ha delle tecnicalità non facili poi da esperire, nel senso che ci deve essere quello ma ci deve essere anche poi una centrale di ascolto H24 che è capace di monitorare e di intervenire. Quindi sono tutte cose molto belle, è difficile farle a livello di popolazione e in genere è più facile farle a livello di situazioni singole. Però questa strada dello sviluppo tecnologico non c'è dubbio che deve essere intrapresa. Buonasera, Mirco Narducci, agenzia di stampa dire. Io volevo chiedervi, negli ultimi giorni abbiamo visto che alcune regioni anche in autonomia stanno prendendo delle ordinanze, stanno prendendo delle misure indipendenti, anche più stringenti di quelle del governo. In particolare abbiamo visto negli ultimi giorni c'è stata una restrizione degli orari di apertura, in particolare dei supermercati, con l'orario limite nuovo fissato alle 19. Abbiamo notato anche nel Lazio un aumento delle code, delle file fuori ai supermercati dovute alla restrizione degli orari. Secondo voi, anche dal punto di vista sanitario, è una misura che vi sentite di consigliare o di sconsigliare, anche come applicazione a livello nazionale? Io credo che le misure che sono state prese fino adesso su input del Comitato Tecnico Scientifico e su input della politica siano quelle che dovevano essere prese. Poi se localmente ci sono degli sfori in più credo che sia attinente alle capacità e alle decisioni locali, per cui niente da aggiungere. Buonasera, sono Ilenia Petragaldina della Vita Indiretta. Si sente pochissimo. Alza la voce. Oggi gli attualmente positivi sono 4.670. Però i ricoverati, stanno facendo una differenza tra ieri e oggi, sono solo 263 persone. Mi chiedo, questo numero, considerando che sale invece il numero degli isolamenti domiciliari, delle osservazioni domiciliari è causato dalla scarsa disponibilità delle strutture sanitarie. Che dato è? Come lo possiamo commentare? Ci sono le cinque regioni dove pressa di più l'emergenza. Non lo so, può essere un'idea questa. Io vedo però che ci sono solo 200 casi rispetto a ieri in più. Ieri erano 1.104 casi. Se posso dire, noi che ci confrontiamo tutti i giorni con i numeri, non abbiamo avuto problemi di ricoveri negli ospedali. Nel senso che chi sta a casa e chi attualmente o è asintomatico o ha dei sintomi lievi per cui non necessita di un ricovero ospedaliero. Questo lo voglio chiarire perché qualora necessitassero il ricovero ospedalieri si trova la soluzione anche su altre regioni che sono meno affollate, meno utilizzate. Credo che fino adesso anche a noi arriva, non arriva se non questo tipo di messaggio, che una soluzione si è sempre trovata fino ad oggi. Salve Gianluca De Rosa, Agenzia Nova. Come diceva il collega prima, le percentuali sia dei contagi sia delle morti, se si sommano Lombardia, Emilia e Romagna, praticamente si raggiunge fra il 60% e il 70%, sia confrontando i dati di ieri e quelli di oggi. La domanda è questa. Si è trovato una spiegazione perché si è parlato molto di diverse cose. Si è parlato della possibilità di un uso eccessivo di antidolorifici, si è parlato di antinfiammatori, la possibilità che la partita dell'Atlanta abbia fatto da veicolo di contagio. sono passati diversi giorni dai decreti del Governo. Ci sono stati diversi rientri nelle regioni del Sud, ma comunque la maggior parte dei casi continuano a essere registrati in queste due regioni. Quale può essere una spiegazione? Quali sono le ipotesi? Qua ce ne sono una, nessuna e centomila. Nel senso che non è che abbiamo la soluzione pronta e la palla di vetro che interpreta questo. Io credo che sia più interessante vedere come certamente c'è un livello nel centro-sud che ancora è un livello contenuto. Quindi il problema da una parte le misure di contenimento cominciano a lavorare perché non è successo nulla sotto una certa soglia. Dove c'era un mucchio di pazienti zero le cose hanno continuato ad esplodere. Però, ripeto, vedo un dato che vi sottopongo di solo 200 casi in più rispetto a ieri. Vuol dire qualche cosa? I prossimi giorni ce lo diranno. E' lo stesso la risposta alla sua domanda che per il momento non c'è. Buonasera, Benedetto Lattanzi di Aska News. Questa mattina il professor Galli, il primario del Sacco, in un'intervista ha detto che c'è tanta gente asintomatica, asintomatica, in quarantena in casa. E c'è il rischio che questi contagino i familiari e quindi l'epidemia non diminuisca. Voglio sapere se stavate pensando ad una quarantena magari in alberghi o in caserme come magari avete fatto con gli italiani che sono tornati da One. Su questo noi abbiamo dato indicazioni alle regioni e ai comuni. Perché c'è un tema, come sapete, dei senza fissa dimora o di chi vive in abitazioni nelle quali non è possibile garantire un adeguato isolamento. Sono le realtà locali che devono intervenire, possono intervenire, hanno le coperture necessarie. Quindi so che il Comune di Roma insieme con la protezione civile della Regione Lazio stanno operando, hanno individuato delle strutture. Dobbiamo fare sì che coloro i quali devono espletare un periodo di quarantena devono essere messi nella condizione di potersi isolare. Buonasera Cecconi del Tg3. Torno sul tema della letalità. Perché vediamo che in altri paesi, per esempio in Germania, il numero dei morti rispetto al numero dei contagiati è molto inferiore che da noi. e lo raffronto anche con un dato che vedo oggi, per esempio in Lombardia. Cioè ci sono stati più 44 i ricoveri in terapia intensiva rispetto a ieri e più 381 i morti. Non è che moriamo di più perché non troviamo posto in terapia intensiva anche adesso in Lombardia? Vi risulta che... No, intanto non risulta. E poi, senta, io non lo so, però bisogna vedere come vengono calcolati questi... Chi è che viene definito morto? Per che cosa? Allora se... Cioè in Germania? Se in Germania mi dicono morto solo il 28enne morto per polmonite interstiziale da coronavirus è certo che alla fine dei giochi c'ha cinque casi. Perché dicono che invece quel novantenne che è morto con il coronavirus ma la cardiopatia ischemica, la fibrillazione atriale e l'ipertensione è morto per quei motivi lì. Poi c'aveva anche il tampone positivo e c'aveva anche la polmonite interstiziale ma probabilmente quando finirà questa storia e potremmo fare una vera analisi ex post capiremo anche queste cose. Ad oggi credo che è buttare sassi nello stagno ma poco di più. Dico sull'aspetto dei posti in terapia intensiva. Assolutamente. Molti medici sentiamo continuamente interviste che dicono dobbiamo scegliere. A voi non risulta? Cioè non fanno ricorso alla CROSS per esempio per andare in altre regioni? A noi risulta che quando gli ospedali devono alleggerirsi fanno ricorso alla CROSS. Quindi la CROSS ha sempre funzionato. Questo ce lo dice anche il responsabile sanitario regionale della Regione Lombardia, il dottor Zoli. Quindi per noi non ci sono difficoltà. È evidente che i posti di terapia intensiva siano tutti quanti occupati e si lavori in modo sostenuto e impegnativo. Però non ci sono problemi di questo tipo. Almeno a noi non sono arrivati e credo che neanche all'opinione pubblica, come sapete, sono arrivate notizie di questo tipo. Che ci siano invece attività impegnative sostenute, questo sì. Buonasera, sono Sabene del Tg2. Commissario, una domanda per lei? Non sono... Allora, aspetti. Così colgo l'occasione per chiarire. Allora, noi abbiamo un commissario che è il commissario Arcuri, quindi lui è il commissario. Capo dipartimento. Capo dipartimento. Come è il commissario per noi? Sì, esatto. All'emergenza. 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 Commissario. Capo dipartimento. Capo dipartimento. Lei stamattina di fatto ha spostato il picco fra due settimane? Cioè, come dire, la sensazione è quella, lei lo ha detto anche se non ho ascoltato male. Allora... Aspetti, aspetti, arrivo. Sì. Se fosse confermato questo spostamento, se lei lo conferma, di fatto le previsioni che erano state fatte come dire, in qualche modo sono state abbastanza desilluse, se vogliamo dirla così. In qualche modo le misure adottate fino a oggi possiamo già tirare delle somme che forse non sono così positive? No, io mi sono permesso di evidenziare una cosa che a me è stata detta e che è stata in qualche modo valutata dagli esperti. non sapremo mai quando sarà il picco. Si parla ragionevolmente, sulla base delle misure che sono state prese fino ad ora, si parlava della settimana prossima o della settimana successiva, ma su questo non c'è un dato scientifico. ci sono delle tendenze, ci sono delle valutazioni che poi devono trovare dei riscontri oggettivi. Secondo me le misure che sono state messe in campo fino ad oggi hanno dato dei risultati. credo che il numero delle persone positive sia il frutto di una circolazione del virus che è precedente a quella stretta che è stata data e che ci auguriamo tutti con queste misure molto stringenti prese da prendere che saranno prese ci permetterà ancora di più di fermare la diffusione del virus. Tenga presente poi che sono dieci giorni perché il DPCM è di mercoledì se non ben mi ricordo. Quindi diciamo che dobbiamo aspettare per lo meno due settimane per fare un minimo di conti. L'Istituto Superiore di Sanità sta cercando di vedere attraverso modelli matematici se si riesce ad anticipare qualche dato ma comunque due settimane sono il minimo indispensabile. Marco Macerone, agenzia stampa Italpress. Visto che parlava appunto del discorso del Presidente Conte che vorrebbe fare ulteriori restrizioni, voi come protezione civile avete magari anche suggerito delle sanzioni specifiche per chi viola le restrizioni perché insomma sembra che quello che manchino siano le sanzioni reali. Dall'altra parte volevo chiedere avete dei numeri sull'incremento delle terapie intensive in quelle regioni che ancora diciamo non sono state così colpite? Ad esempio nel sud avete un numero complessivo insomma di posti letto Covid e di terapie intensive in più? Sì, allora intanto parto da questo. Siamo partiti all'inizio emergenza da 5.400 posti di terapia intensiva in tutta Italia. Siamo arrivati intorno agli 8.000. Adesso non ho con me la tabella e quindi non riesco a dare il dato preciso. e stanno ancora crescendo questi posti. Sono anche cresciuti notevolmente i posti in pneumatologia nei reparti specializzati. Quindi c'è tutta quell'attività di potenziamento che è stata richiesta dal Ministero della Salute e messa in atto da parte delle regioni. Per quanto riguarda le misure e le sanzioni noi come Dipartimento della Protezione Civile ci limitiamo alle nostre attività. Queste sono valutazioni anche di ordine politico che lasciamo ovviamente al Presidente e al Governo nella sua collegialità. Angela Caponetto, ReNews24. Una domanda che in realtà poi sono due collegate. Zaia, il Presidente del Governatore del Veneto, si dice molto preoccupato per un nuovo cluster che potrebbe essere quello di Verona. Un nuovo focolaio che potrebbe essere quello di Verona. Quindi nonostante le misure di contenimento, certo lì abbiamo una zona molto calda per cui difficile contenere adesso. Si va avanti, si prosegue quindi con l'espansione del virus. Qui nel Lazio è stato trovato il focolaio di Fondi. Ci sono delle suore che sono rimaste contagiate all'interno di due conventi ma avrebbero preso, avrebbero contratto il virus in ospedale perché frequentavano ospedali. Cosa ci possiamo aspettare? È vero che non siamo arrivati al picco? È vero che adesso qui nel Centro Sud è contenuto? Senta, l'idea che ci possano essere degli spot nei prossimi giorni non mi sconvolge. È possibile nell'ambito di questa vicenda. La cosa fondamentale è che siano appunto degli spot, dei focolai isolati e che poi vengano prese, come avete visto, dei provvedimenti immediati per cercare di restringerli. Quindi la cosa fondamentale è l'enorme contenimento ipotizzato e vedere quello che succede appunto dopo due settimane. Quello è, che poi ci saranno degli altri, è possibile. Luca Pellegrino, agenzia Novecolonne. Martedì è arrivato negli Stati Uniti da Aviano un cargo che ha appuntato 500 tamponi dall'Italia. Senza fare domande politiche, insomma. Ma possiamo esportare tamponi negli Stati Uniti? Ne abbiamo a sufficienza? Allora, per quello che ne so io, noi abbiamo acquistato 390.000 tamponi, li stiamo distribuendo alle nostre regioni. Non ci sono particolari criticità, se non momenti contingenti nei giorni scorsi di qualche regione che aveva esaurito i tamponi. Quindi se noi riusciamo a produrre tamponi e si riescono anche ad esportare non vedo particolari criticità. Salve Cardinaletti, Tg1. Una domanda sul caso di Voe Euganeo oggi. Di nuovo un caso positivo dopo una settimana o qualche giorno, insomma, in cui non si erano registrati nuovi contagi. Lo ricordiamo, Voe Euganeo è stato il primo focolaio del Veneto. Come leggere questo dato? Cioè, si è sbagliato a pensare che fosse un focolaio spento? Se così è stato detto? Prego, grazie. Non è che si è sbagliato, è come quello che diceva la sua collega prima, che possiamo averci degli sforamenti indesiderati, imprevisti e possibili. Comunque uno, beh, insomma, meglio di 100. Bene, grazie e buonasera a tutti. Grazie.